Qual è il nostro mondo di unificare su tutta la piattaforma SaaS? Allo sviluppo dell'ideazione dei modelli, al suo sviluppo, alla stessa messa in produzione fino al controllo e alla qualità dei dati che faremo con il prodotto DataFlux sempre di SaaS. Questo ci rende tranquilli e confidenti nella scelta che abbiamo fatto proprio perché il prodotto e le soluzioni SaaS si sono affermate nell'ambito del risk management a livello bancario e confidenti nell'accettare la validazione o l'esame, come dico io, di Banca d'Italia che stiamo attendendo. Il progetto sta andando bene, devo dire con il contributo di tutti, concluderemo, speriamo nei tempi, entro la fine dell'estate e attendiamo Banca d'Italia. Grazie. Grazie. Grazie.